secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie swartz nega ok allora vediamo vediamo anche pure non basta top 5 con due no serio hai clipato questo è troppo buona per lui porco sono incastrato parco diavolo parco diavolo parco diavolo si si ho la kill abbiamo due kill ma già partita la zona potrei farmi taggare dalla zona e andare a prendere la prima scheda e poi le altre due utilizziamo tutti i barilozzi che ci sono dentro la caverna vi ributto qua davanti ciao cleopatra scusami cara ero concentrata col torneo ciao grazie per la sub guarda questo guardo se gioco a un titolo a meno di due aspetta che guardo quanto giocato boom simulator ma penso più di due ore libreria non la sapevo questa tempo di gioco oddio 119 minuti come faccio a rimborsarlo giuza e voleva siete sempre i pezzi coglioni piano sto bene 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 ok sono a bello de papà lorenzo azucca per cazzo nobbi oltre che abbuttana macetua coglione vai che andiamo merda ragazzi merda merda twitch senza l'oxider carico e croccante immmmm mmmm manca di qualcosa manca di qualcosa buongiorno anche a ricchi ox buongiorno e grazie mille degli otto allora grazie il porco 1 il porco 2 ok il porco 3 il porco 4 il porco 5 il porco 6 f il porco ultimo marco chi è il porco cazzo qua c'era qua c'era c'è la c'è la c'è la c'è la c'è la portati e poi il game dopo siamo morti a kami split sembra lo stesso modo con quattro portati porco cazzo war made camera 345 parte della ciurma parte della nave ciao war made camera benvenuto ciao bello credo di essere chill buongiorno siddo grazie dei 23 cristo di dio ma porco cazzo figlio di puttana quindi non non c'è chi è il signor crigio ho appena scoperto che era disponibile clippa 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 let's fucking go let's go let's go let's go let's go cazzo che class ha dai cazzo dai porco stiordi che cazzo è classato clippa 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 7 parte della turma parte della nave bravo ci sta corretto 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 questo è immortale perché c'è la madre puttana che succhia i cazzi a 4 a 4 a 4 a 4 let's go let's go let's go parco di ads let's fucking go parco di ads diocaro che salività dai io non mi faccio di strago io sono lo strago dai che andiamo per tutti forza cazzo forza cazzo che palle ti giuro ventichiluina ha fatto alci ventichiluina eh vabbè ci sta bravo bravo allora che cazzo devi dire no non è bravo alla mamma che è una troia ti giuro che se prendo il mod nelle nobel quello non gioca più una sessione merda me l'hai mandata me l'hai mandata ok ok questo non gioca più una sessione non gioca più una sessione sto fia da una gran puttana guardati merda vabbè sono stati soliti dai ma che soliti vecchio è vecchio e vabbè hanno fatto due double 20 kill win wow troppo forte siamo arrivati secondi ragazzi sicuro no no non credo non sono sicuro neanche secondi è sicuro no con toglie due no vecchio non possiamo si ma sono solo due ho 4 splash facciamo andare full destra qua allora se vuoi andare dobbiamo andare? dentro l'aisy lagoon dobbiamo entrare qua sicuramente ci trovi blur controlla c'è spuglia che sicuro c'è blur ok lascia perdere faccio full destra dentro la casa di l'aisy lagoon quindi tu non puoi restarlo no non possiamo non possiamo attenzione gli faccio una play aspetta che splash attenzione i junk gli ho già usati attenzione che arrivano ho preso 200 mila danni ho fatto morti due morti due morti due morti due anche morti due gente nel bush una qua sotto a me si salta 3 morto 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 sto salendo sto salendo nooo mi hai bugiato via l'ultimo che sale blu 35 40 let's gooo let's gooo che solidità che solidità che solidità clipa 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 let's fucking gooo